La prossima settimana potrebbe portare sostanziali novità sul fronte della trattativa tra Luciano Campitelli e il legale Giovanni Palma. L'incontro di giovedì scorso a Roma nello studio del tributarista è stato proficuo, ma per forza di cose non risolutivo. E non sarebbe mai potuto esserlo, visto che si trattava di un primo vero approccio tra i due. Ma dalla riunione è venuta fuori una base sulla quale ragionare. Palma sarebbe disposto ad entrare nella compagine societaria bianco-rossa con una percentuale molto alta da quantificare se intorno o addirittura pari al 50%. Ma la novità sta nel fatto che il legale avrebbe il cosiddetto diritto di riscatto del pacchetto societario del diavolo. Da valutare, e di questo si sta ragionando, in quanti anni Palma potrebbe esercitarlo. Il legale vorrebbe un tempo più breve, un anno, Campitelli propende per un lasso più lungo, due anni. Ma comunque il fatto che una sorta di recompra di tutto il pacchetto del Teramo sia a favore del tributarista, ex vicepresidente della Juve Stabia, lascia intendere che comunque ci sia la volontà da parte di Campitelli di arrivare ad un passaggio a medio termine nell'intero pacchetto. Anche se in questo preciso momento queste sono solo delle ipotesi che potrebbero presto essere modificate dalle parti in causa. Il fatto di arrivare ad una gestione vicina alla sostanziale condivisione dei programmi è il sintomo della volontà di dare spazio anche ad altre forze che possano aiutare l'attuale presidente a creare un organigramma più variegato e che possa dare maggior impulso dal punto di vista degli investimenti. Si diceva delle novità perché la settimana che verrà potrebbe portare un altro incontro tra i due per la definizione dell'accordo, da quello che filtra regna ottimismo tra le due parti. Questo potrebbe non voler dire per forza che l'accordo ci sarà, ma Palma è fiducioso e anche Campitelli. I tempi sono stretti perché poi andrebbe fatta la programmazione per il prossimo campionato e il Teramo con forze fresche potrebbe affrontarlo da protagonista.